Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La benevolenza di Gesù è su ciascuno di voi, è in ciascuno di voi. Questa benevolenza ti avvolge, ti arricchisce, ti parla, dà colore alla tua vita, dà senza tutto quello che fai. Quando questa grazia è vicina a noi fratelli, si vive, tu vivi, perché Dio è la vita. Quando questa grazia è lontana da noi, si dice che l'anima è morta, che noi siamo morti, morti spiritualmente, e noi viviamo in questa grazia, dimoriamo in questa grazia, come un uccello è avvolto dall'aria e il pesce dall'acqua, così ciascuno di noi fratelli dimora, cammina, agisce, opera nella grazia di Dio. E senza la grazia non possiamo vivere. Vedete la natura non può vivere senza acqua, la natura vegetale, animale, non può vivere senza acqua, come noi non possiamo vivere senza l'aria. Ebbene, l'acqua viene presa nella scrittura come figura della grazia di Dio. Per questo, spesso e volentieri, anche il salmista dice, la mia anima è sede di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio, la mia anima è come terra deserta, arida, senza acqua, perché sto vivendo un momento di crisi. Mi manca l'acqua, la vita, ciò che mi dà vita, la grazia di Dio dà vita ad ogni cosa. E l'acqua, fratelli, nella scrittura e nella liturgia presa come figura di questa grazia. E ascoltiamo oggi, nella prima lettura della Messa, uno stupendo brano del profeta Ezechiele, che vede dal Tempio di Gerusalemme uscire un rivolo d'acqua, che man mano che procede si ingrandisce, fino a diventare un fiume, fino a diventare proprio come un mare. E dovunque arriva quest'acqua, tutto viene risanato. Le creature riprendono vita, le piante da frutto danno 12 raccolte all'anno, a significare dove arriva la grazia di Dio. C'è la vita, c'è vita. Dio è la nostra vita e noi viviamo nella grazia. La grazia è il nostro cibo, il nostro alimento, l'acqua che ci dà vita. Per la verità, vicino al Tempio di Gerusalemme scorre un torrente d'acqua che il re Ezechiele, diciamo nell'VIII secolo a.C., volle ingannare, fece scavare un tunnel sotterraneo per proteggere quest'acqua, perché quando c'erano gli assedi da parte nemici, la prima cosa che questi cercavano di fare era quella di togliere l'acqua. Mancando l'approvvigionamento idrico, le città dovevano arrendersi. Il re Ezechiele fece ingannare quest'acqua, di modo che attraversava tutta la città di Gerusalemme e tutto il popolo poteva essere alimentato con quest'acqua viva. E l'acqua è appunto figura della grazia di Dio che lui ci dona abbondantemente. E da dove scaturisce questa grazia? Dal cuore di Dio figurato dal Tempio di Gerusalemme. Questo fiume, questa corrente d'acqua va e da vita. Il popolo inaredito riprende vita con la grazia di Dio. La tua grazia, Signore, dice il salmista, vale più della mia vita, perciò le mie labbra diranno la tua lode. Ed è una cosa bella, fratelli, che noi continuamente ricorriamo a questa grazia, ci toffiamo in questa grazia, nuotiamo in questa grazia, dimoriamo, ci alimentiamo di questa grazia, che è la grande benevolenza del Signore. Hai peccato, ma lui ti ama, hai sbagliato, ma lui ti ama. Non approva il male, assurdo, ma Dio ama te che sei toccato dal male e vuole che tu confiti in quella grazia e questa grazia non solo ti perdona, ti rigenera vita nuova, ti fa rinascere. Gesù dice infatti nel Vangelo, se uno non rinasce da acqua e da spirito, non può vedere il regno di Dio. Allora vuoi cambiare vita? Apre il tuo cuore la benevolenza di Dio verso di te. Apre il tuo cuore l'amore di Gesù, che ti immerge in questa acqua viva. E un'immagine bella della grazia ce l'ha da oggi nel Vangelo, dove Gesù incontra un uomo paralitico che voleva guarire e lui si era fatto portare alla piscina di Bethesda. Era più che altro un osservatorio d'acqua, una cisterna d'acqua, che serviva a tanti per lavare gli animali che venivano poi offerte e sacrificate nel Tempio. e una volta all'anno, in questa piscina dove c'erano cinque portici, perché c'era anche un portico che spezzava in due la piscina, e gli scavano poi dimostrata l'autenticità di questo portico, e una volta all'anno un angelo del Signore, racconta il Vangelo, muoveva l'acqua e il primo che si tuffava in quell'acqua veniva guarito. E Gesù incontra quest'uomo che da 38 anni voleva guarire, ma non trovava nessuno che lo emergesse nell'acqua al momento opportuno. Gesù, visto lo che voleva guarire, gli ordinò di alzarsi, di prendere suo lettuccio e tornarsene a casa. E così avvenne. Quest'uomo si tuffò non quella piscina in quell'acqua, ma l'altra acqua, quella che proviene dal cuore di Gesù Cristo, la grazia di Dio, e fu guarita. E così siamo tutti noi, fratelli, quando ci tuffiamo in questa piscina che è il cuore di Gesù, questa vasca piena d'acqua, veniamo rigenerati a nuova vita. Il salmista perciò dice, Dio è per noi rifugio e forza. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce, perciò non temiamo se trema la terra, se vacilano i mondi nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle timore dell'Altissimo. Dio, in mezzo ad essa, non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo, il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. E nel Vangelo di Giovanni, Gesù, rivolto ai suoi ascoltatori, dice, Chi ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Tu provi ogni tanto, fratello, sorella, a fermarti davanti a Gesù. Anche se non hai delle immagini, ma guardaci su dentro di te e attingi quell'acqua viva. Lasci ti avvolgere dall'ebbrezza, dalla freschezza di quest'acqua restauratrice, che oltre ad alimentarti e ti rinfresca, e ti dà sapienza, intelligenza, potenza, grazia. Ti dà il gusto della vita. Più volte ho sentito nella mia vita, da parte di qualche penitente, che dopo aver incontrato la grazia di Dio, mi hanno detto, mi sembra di aver cominciato a vivere. Prima vivevo chiuso in me stesso. Adesso vivo è entrata la grazia, la benevolenza, che non ti lascerà mai, perché la grazia del Signore dura in eterno. Non ti abbandono neanche se sei nella prova e se sei nella debolezza. Signore Gesù, tu ci hai invitato a bere a quest'acqua. La mia anima ha sete di te. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, dice il salmista. Essi mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio? Dentro di me, Signore, c'è un gran desiderio di incontrarti, di conoscerti, di vivere in te, con te e per te. Sanziami con quest'acqua viva. Inebriami con quest'acqua perché il mio cuore non abbia a assaporare altra bella banda che se non con l'acqua viva che è sgorgata dal tuo cuore. Quando il saldato trapassò il tuo cuore, ne scorgò sangue e acqua. Inebriami, Signore, con quest'acqua viva. Inebriami del tuo santo Spirito, del tuo Spirito d'amore. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu hai visto quest'acqua. Quest'acqua ti ha generata. In quest'acqua tu hai demorato nella benevolenza di Dio. L'angelo ti definisce graziata, che cari Tomeni, se l'ha graziata, se l'ha benvoluta presso il cuore di Dio. Questa grazia ti ha avvolto. Perciò l'angelo ti ha salutato dicendoti, Ave piena di grazia. Questa grazia tu la riversi su di noi. Come nostra madre ci partecipi a ogni dono di grazia che tu hai ricevuto. Per questo noi ti definiamo e ti nominiamo Madre della grazia. Donaci da separare quest'acqua viva, che il figlio tuo Gesù Cristo, che lo Spirito Santo che sgorga dal suo cuore divino, fa che animati di questo Spirito viviamo non più per noi stessi, ma per Gesù che è morto e risorto per noi. E viviamo per donargli la nostra vita, per accogliere noi e donare la sua grazia ai nostri fratelli, perché Lui abbia a regnare su tutta l'umanità. A Lui gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi, fratelli, ricordiamo ancora, attingiamo questa acqua, attingiamo questa grazia, e tuffiamoci in questa piscina dove certamente veniamo ristorati, rigenerati, vivificati. Amen.